Ciao a tutti, innanzitutto buon anno di cuore a voi, alle vostre famiglie, che sia un anno di normalità, di libertà, di presi di posizione politiche nette e anche di indipendenza intellettuale, tutto quel che è mancato in quest'ultimo anno durante il quale siamo stati bombardati da una risibile propaganda filogovernativa, salvo orare eccezioni, che ormai cozza con la realtà, sotto tutti i punti di vista, politici, anche etici, economici, sociali, anche della gestione della pandemia, ma ci arriveremo. Ieri sono andato a fare la spesa, dopo 11 giorni di quarantena, è stato bellissimo, non vedevo l'ora di andare a fare la spesa e mi ha fermato un signore che mi ha detto io non ti seguivo, sono stato spesso in disaccordo con te, pensavo che quando tu sei uscito dal movimento per via di questo governo che serviva per la gestione dell'emergenza eccetera eccetera, tu avevi commesso un errore, invece oggi guardando una serie di questioni penso che tu abbia avuto ragione, sì, lo so che avevo ragione, è brutto da dire, però sono convinto appunto che avessi ragione e non è consolatoria questa cosa perché aver avuto ragione comunque non mi è servito a evitare una serie di cose che mi hanno fatto soffrire, in primis lasciare il Movimento 5 Stelle, ho passato dei mesi non facili perché è sempre facile in questo momento prendere decisioni in questo paese da democristiani, rilasciare qualche intervista accomodante, parlare bene di Draghi quando potevo parlare bene di Draghi quando mi è arrivato all'orecchio, mi è arrivata la voce appunto che si stesse lavorando per la sostituzione di Conte con Draghi, era facile, chissà, avrei fatto un'altra carriera, però grazie a Dio, grazie a Dio proprio non ce la faccio a diciamo sacrificare sull'altare della convenienza le mie idee, le mie convinzioni, ripeto, giuste o sbagliate che siano, in questo caso giuste perché il fallimento del governo Draghi è sotto gli occhi di tutti, un fallimento economico soprattutto perché in quest'anno, ora governata quasi un anno, non è riuscito minimamente a ristorare adeguatamente persone, famiglie, imprese che hanno subito enormi drammi economici e sociali durante i mesi della pandemia, anzi la forbice tra ricchi e poveri in tutto il mondo e in Italia si è allargata, chi aveva molto oggi ha di più, chi aveva poco oggi ha di meno e questo è per me dal punto di vista politico, sociale ed economico, come dire, il campo principale di azione e su questo punto di vista insomma ha fallito, ma si è fallito anche dal punto di vista della gestione della pandemia nonostante i migliori si siano pavoneggiati negli ultimi mesi, nessuno come noi, nessuno come noi forse sì, nessuno probabilmente in Europa attende un tampone come si è atteso in Italia o gli esiti di un tampone come si attendono in Italia, la confusione delle ultime settimane, gli errori sono macroscopici, soltanto che Draghi non parla, fa trapelare qualcosa, ne parlano i giornali, ma non parla, ha fatto quella conferenza stampa con stile prendendo anche in giro un giornalista del Fatto Quotidiano che faceva una domanda sacrosante in merito appunto all'informa dell'IRPEF e al fatto che abbia favorito maggiormente persone che hanno di più di persone che dovevano essere invece favorite, ovvero le classi più disagiate non hanno avuto fondamentalmente un supporto economico che meritavano, del quale avevano bisogno rispetto ad altre classi. Ma non parla il Presidente del Consiglio, sta lì zitto, prova a volare alto, sperando appunto che il silenzio lo avvicini al Quirinale, che è quello che gli hanno promesso, quando gli hanno detto ti prego vieni a fare il Presidente del Consiglio, come se l'Italia fosse un paese simile al Burundi all'epoca, con tutti i limiti del governo precedenti ho sempre riconosciuto una gestione dignitosa della pandemia, soprattutto dal punto di vista sociale, con ristori, ristori, ristori che ci siamo dimenticati in questo momento, soprattutto rispetto alle cifre dei ristori dell'ultimo governo Conte, e insomma gli hanno promesso il Quirinale, adesso sta lì intimorito di non poter raggiungere appunto la Presidenza della Repubblica, iniziando a far trapelare, immagino se sono vere alcune frasi che per me sono gravissime. Leggo dal giornale, la linea di Draghi, se rimango a Palazzo Chigi, garantitemi libertà di scelta, come se non l'ha avuta la libertà di scelta in questi mesi in cui i partiti si sono azzerati, azzittiti, hanno fatto delle figuracce incredibili, chi più chi meno tutti. O ancora, i paletti di Draghi a partiti, posso restare Premier solo se libero di decidere, la stampa, non so se siano vere queste indiscrezioni, perché insomma, pur sempre la stampa è il giornale, però se Dio Guardi dovessero essere vere, qual dirà dello stile tutta questa differenza con i pieni poteri rivendicati e auspicati da Salvini quando tutto il mondo giustamente lo criticava per quella frase, c'è un Presidente del Consiglio che vuole di fatto libertà di scelta, di azione in ogni modo per restare a Palazzo Chigi, come se appunto non ci fosse stata per lui libertà di azione, ma soprattutto dimenticando che ormai è prassi che il Parlamento venga vilipeso, ma siamo pur sempre la Repubblica parlamentare, invece record di voti di fiducia, decreti omnibus, che sono i decreti omnibus, quelli dove c'è tutto il contrario di tutto dentro, che dovrebbero essere vietati al potere di stare la Costituzione, ma sono sempre stati firmati, salvo poi leggere qualche monito, ma insomma io mi auguro che in futuro il futuro Presidente della Repubblica non firmi più dei decreti omnibus, appunto, che racchiudono all'interno argomenti dissimili uno tra l'altro, non funziona così, ripeto, i governi dovrebbero fare dei decreti di urgenza quando c'è l'urgenza, appunto, per risolvere un problema e poi dovrebbero lasciare l'attività legislativa ai Parlamenti, in una Repubblica parlamentare. Ma ciò non avviene nel Draghistan, dove tutto è stato raccontato perfetto, ma tutto quel che è stato raccontato in modo ignobilmente falso, appunto, cozza con la realtà. Ora, ditemi voi, al netto che io avevo, come sapete non sono mai stato un fan del governo Conte II con il Partito Democratico per una serie di motivi, ditemi voi, infatti lo critico io Conte, per l'amor di Dio, su determinate questioni, l'ho criticato su delle frasi su Berlusconi, eccetera, dando sempre a Cesare quel che è di Cesare, ma ditemi voi cosa sarebbe successo se non ci fosse l'Altissimo, il Messia, l'Apostolo Draghi al governo, davanti appunto a quel che è avvenuto nell'ultime settimane, interventi uno dietro l'altro per... da parte di un governo che non ci ha capito nulla rispetto alla pandemia. Un governo che se l'è preso esclusivamente con i Novax per, come dire, provare a lavarsi la coscienza dai propri errori, dalle proprie mancanze in materia di trasporti. Io li ho presi, gli autobus erano carnai in materia di interventi sulle scuole. Questo ministro di istituzione ha fatto niente, 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 se lo sono presa tutti con Lazzolina interveniva, si può criticare, per me, come sapete ha fatto molto in realtà, ma questo ministro non fa niente, non ha trovato un'aula nuova, non si è occupato veramente dei distanziamenti, della gestione dei contagi nelle scuole. Il ministro dei trasporti, sfido tanti che mi stanno, mi auguro tanti, ascoltando, quanti di voi sanno chi è il ministro dei trasporti e cosa ha fatto? Il ministro dei trasporti è nell'epoca dei migliori, niente, per non parlare di Brunetta, no? Che se la prende con lo smart working, quando altrove si sta pensando addirittura in Francia quasi di punire delle aziende che non lavorano garantendo appunto lo smart working, perché è evidente che in un momento in cui c'è ancora un problema enorme di contagi, lo smart working fosse una risorsa importante. No, lui, in maniera quasi ridicola, ridicola fondamentalmente, contro lo smart working. Cioè, non hanno fatto nulla, se la sono presa soltanto con uno vax ai quali io suggerisco di faccinarsi, per l'amor di Dio. Però è stato veramente un comportamento brutto, vile da parte del governo, irresponsabile. I migliori sono stati irresponsabili anche decisamente scadenti nella loro azione. Qualcuno deve assumersi. Io mi pare che gli ultimi settimane siano un po' come la guerra in Afghanistan. Tutti quanti, anche le televisioni non possono evitare, iniziano a certificare determinati fallimenti sui tamponi, sulla gestione del contagio, sulle scelte prese, sul prezzo dei tamponi, sul fatto che tante famiglie si sono veramente trovate in difficoltà, sole, enormi difficoltà, poi chi ha i figli piccoli lo sa ancora di più, anche difficoltà economiche. Io personalmente con la mia famiglia sono andato a fare il tampone e abbiamo aspettato due ore e mezza, tre ore. Ci è andata bene perché a un certo punto ci hanno fatto andare avanti perché avevamo i figli piccoli. Ovviamente parlo di servizio pubblico, il drive-in l'ho fatto a tour di quinto. E non me la prendo minimamente con chi lavorava lì, che sono stati bravissimi, cioè veramente avevano i capelli dritti dalla mole di lavoro che hanno dovuto affrontare e che continuano ad affrontare. Ma ci sono persone che hanno aspettato 5-6 ore. Ma in altre regioni, in altre località, qua si aspetta per un tampone pubblico 16 ore, 18 ore, 10 ore, 9 ore, per non parlare della risposta. A noi la risposta ci è stata data 44 ore dopo. Abbiamo fatto il tampone il 30 mattina, la risposta ci è stata data il primo mattina. Cioè fondamentalmente abbiamo passato tutto il 30 e tutto il 31, anche il capodanno, avevamo voglia, non dico di far chissà che cosa, di uscire di casa, essendo guariti e non l'abbiamo potuto fare. 44 ore di attesa, in Francia 3-4 ore anche il servizio pubblico. E poi tante famiglie giustamente vanno al servizio pubblico perché hanno speculato molti e non tutti i privati in modo vergognoso nell'ultime settimane. Tamponi che sono arrivati a costare molecolari 160-180 euro. Come fanno una famiglia normale, che vive di stipendi normali a spendere, magari sono 4 a fare 4 tamponi e fanno, spendono 500 euro per tamponarsi, con la possibilità di doversi ritamponare una settimana dopo. Che fanno? In 10 giorni spendono 1200 euro di tamponi. È incredibile, però nessuno paga, come per la guerra in Afghanistan. Iniziano a parlare del disagio, degli errori commessi, però nessuno ne paga politicamente. Ma perché non risponde il migliore tra i migliori, i ministri, i presidenti di regione? Ma chi sono i responsabili di quel che è avvenuto dei disagi sconvolgenti, della perdita di denaro di tanti cittadini? Hanno speso l'ira di Dio in tamponi. Perché appunto magari altri avevano della fretta per una serie di questioni personali, lavorative, eccetera, eccetera. Non potevano aspettare ore e ore in fila, oppure 44 ore appunto per avere un esito di un tampone molecolare. Poi ovviamente siamo in Italia, hanno cambiato le regole, non per ragioni scientifiche, ma per ragioni politiche. E questo è anche il dramma. Accusano tutti quanti ah non avete fiducia nella scienza, io la fiducia nella scienza ce l'ho, ma poi è lo stesso governo che prende delle decisioni che spesso e volentieri con la scienza non hanno nulla a che fare, altrimenti settimane fa, come suggeriva Crisanti, avrebbero imposto l'obbligo delle mascherine FFP2 sugli autobuschi. Era una cosa molto logica, perché soprattutto quelle mascherine impediscono maggiormente, più di ogni altra cosa, probabilmente per quel che leggo, e poi appunto il contagio. Vogliamo parlare dell'etica, di nuovo della riforma cartabia, di quello che dicono i magistrati antimafia di quella riforma, di quello che si sta ancora pensando di fare in tema di giustizia. Vogliamo parlare appunto della manovra economica, che ai tempi, io mi aspettavo, arrivano i migliori, i tecnici che riescono a cancellare le mire dei politici e le aspirazioni più becere dei parlamentari che necessitano di famosi emendamenti localistici e di quattrini pubblici da spendersi sul territorio e portersi a garantire la rielezione. Invece no, nell'ultima finanziaria, ancora marchette su marchette, marchettifici. Sarebbe interessante, credo che i parlamentari dell'Alternativa Cielo abbiano fatto, di fare una bella lista di tutte le ennesime marchette, denari pubblici nostri che vengono garantiti ai politici, non sulla base della necessità reale di un territorio, una visione, una progettualità, no, appunto spenderli nei propri collegi per poter continuare a raccattare voti ed essere continuamente eletti. Queste sono le marchette che vengono fatte, appunto, durante l'approvazione della legge di bilancio. Una legge di bilancio, anche dal punto di vista, diciamo, della quantità di denari investiti, irrisibile rispetto a quel che servirebbe, appunto, in un momento storico, drammatico, perché tante famiglie, ripeto, non è che uscire dalla pandiglia dalla quale non siamo usciti, ci sono milioni di persone che fanno quarantena, significa tornare alla normalità economica, non c'era neanche prima. Ci sono persone che negli ultimi due anni hanno perso denari che prima avevano dieci in banca, oggi c'hanno due, che prima con quello che avevano in banca riuscivano magari a comprarsi la macchina senza dover accedere a un finanziamento bancario, oggi non lo possono fare, quindi in un certo senso diventano sempre più ricattabili da questo sistema delle rate, dell'indebitamento costante. Cioè, questo è successo, questo avviene nell'epoca dei migliori, però non viene raccontato, no? O adesso un pochino sì, però viene come dire sempre protetto uno dei responsabili, cioè evidentemente il Presidente del Consiglio è responsabile tra i responsabili di una serie di misure e anche della scelta di ministri che hanno toppato clamorosamente. Vabbè, è tornata la mia famiglia, siete tornati, eh? Sono andati a fare un giro al parco, io vi saluto, vi auguro a tutti, eccolo, buon anno di cuore e un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Papà, ma mi hai comprato una macchina. Una macchina, guardate, la vado a prendere. Ciao a tutti.